Battesimo del fuoco per il racing quoda Il motoclub team 100% Cross Life può dirsi soddisfatto del risultato ottenuto con la prima prova di campionato tricolore racing quoda 2021 Il battesimo della neostagione sulle quattro ruote artigliate è stato domenica scorsa ad Eraclea Venezia a pochi passi dalla battiglia per una giornata baciata dal disco del sole I 32 piloti e tutta la colorata carovana quad sono stati accolti dal primo cittadino sia durante le operazioni preliminari del sabato dove il sindaco si è lasciato condurre in quad per un giro di tracciato sia durante la giornata di domenica quando sono andate in scena le premiazioni La cronaca sportiva di giornata per la categoria di vertice FX ha dato ragione al pluricampione italiano Simone Mastronardi da anni affezionato alla racing quoda e oggi tra i protagonisti nel quad cross il quale ha dominato entrambe le mance di 12 minuti più due giri davanti a un sempre più emergente Lorenzo Bortolozzo quest'ultimo infatti oltre a centrare delle buone partenze a far suo l'allshot ha sempre mantenuto un ritmo sostenuto incollandosi alle ruote del gigante romano per diversi giri e andando di conseguenza a scalare il secondo gradino del podio podio che si completava con il bronzo di Eddie Gizzo la quarta posizione assoluta è andata invece a Beatrice Grola oggi il punto di riferimento italiano per le quattro ruote artigliate in rosa sempre nella categoria regina si sono distinti Michele Marco Monti e Umberto Caronna altra categoria dove le manette non si sono certo risparmiate è stata la FX4 categoria che in questa occasione è stata croppata la FX il veterano Silvano Grola ha autografato la migliore prestazione di giornata mettendo in cascina buoni punti per il campionato a laurearsi con l'argento per la categoria FX4 è intervenuto Stefano Sosta davanti all'amico e rivale Alberto Bianchini la categoria FA classe dedicata agli automatici ha strizzato l'occhio ad Andrea Incerti che bene si è comportato in entrambe le manche con il chiaro intento di difendere il titolo italiano incassato nel 2020 l'argento di giornata nelle categorie automatici è andato a Gianluca Quarta mentre Marco Costanzi ha scalato il terzo gradino del podio Claudio Marafetti è scivolato in quarta posizione onore e meriti vanno per la categoria FA2 alla new entry Chiara Domenichini una leonesse in sella al proprio quad con il carattere giusto grinta da vendere e un team manager di eccezione il campione italiano Racing Quad Elia Domenichini la categoria JF250 Pro e Stock come di consuetudine sono state accorpate Andrea Zucca ha dato spettacolo con la sua tecnica di guida e la sua velocità in grado di arrivare ad eseguire doppiaggi ed affermandosi leader di giornata con loro nella categoria Pro a seguire si sono imposti Riccardo Gullo e Lisa Torrini altre lady sempre presente al campionato tricolore la categoria JF250 Stock ha visto il podio comporsi con Tommaso Cappellato Cappiotto miglior performer di giornata seguito da Francesco Gullo, Elia Savatteri e Filippo Carminati la categoria Amatori è stata accorpata alla categoria Trofeo con Michael Peronna a laurearsi campione nell'Amatori mentre nella Trofeo si è imposto Michele Roccetti Daniele Carlini ha fatto solo l'argento mentre il bronzo è andato ad Andrea Paoloni il resto della compagine si informava con Michele Intrieri, Andrea Mariotti e Alessio Di Berardino quattro i pulcini che hanno incollato genitori ed appassionati all'affettucciato con Emanuele Lattanzi a laurearsi campione davanti ad altrettanti competitivi piloti quali Mattia Zori, Andrea Dell'Aria e Federico Gentili Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti